Ciao a tutti, oggi parliamo di legamento crociato craniale e soprattutto della rottura del legamento crociato craniale nel cane. Una patologia abbastanza frequente che colpisce soprattutto cani di grande taglia, ma può colpire anche cani di media e piccola taglia. Cercherò di spiegarvi innanzitutto un po' in breve parole com'è un ginocchio generalmente. Praticamente abbiamo la parte distale del femore, la parte prossimale della tibia, la rotula, poi abbiamo due legamenti collaterali, mediale e laterale e poi abbiamo i menischi che sono tra la parte diciamo terminale del femore e la parte prossimale della tibia e poi abbiamo due legamenti che si chiamano crociati perché si incrociano che fondamentalmente abbiamo un legamento crociato craniale e il legamento crociato caudale. Funziona un po' come il ginocchio nell'uomo ovviamente. Perché si rompe il legamento crociato craniale e non quello caudale? Prima domanda. Allora, generalmente nel cane la rottura del legamento crociato caudale necessita di un trauma maggiore, mentre invece è frequente la rottura patologica del legamento crociato craniale per motivi anatomici. Fondamentalmente, a differenza dell'uomo, il legamento crociato craniale nel cane fondamentalmente lavora tutta la vita, ovvero è formato da due branche e soprattutto la cranio mediale lavora sempre, sia in estensione che in flessione, quindi è più soggetta nel tempo a rompersi. Quindi diciamo una rottura da usura che chiaramente è più frequente nell'animale anziano può capitare anche per esempio in alcuni animali che vengono utilizzati o da lavoro o da attività sportiva oppure semplicemente perché fanno tante passeggiate col proprietario, quindi può rompersi anche in giovane età in base anche all'utilizzo. Rispetto all'uomo che invece la rottura del legamento crociato è più traumatica, quindi tendenzialmente lo abbiamo nei traumi più frequenti, per esempio giocare a calcio quando fanno i dribbling oppure a sciare è più frequente la rottura traumatica. Nel cane avviene anche questa, una rottura traumatica, molto spesso per esempio un cane da caccia che corre nel campo, trova una buca, il femore, la tibia si ferma nella buca e tutto il corpo avanza e lì può rompersi il crociato, oppure nell'intrarotazione, cioè sta correndo, vede la preda dall'altra parte ruota e quindi fa proprio perno su un arto e quindi intraruota. Abbiamo parlato di femore che si sposta in avanti, intrarotazione del ginocchio perché il legamento crociato craniale fondamentalmente serve a questo, a evitare un'eccessiva intrarotazione del ginocchio, a evitare un eccessivo spostamento del femore sulla tibia e evitare un'eccessiva iperestensione dell'arto. Quindi fondamentalmente quando abbiamo dei traumi che andiamo a sollecitare queste azioni, la rottura traumatica è più frequente. Mentre invece per quanto riguarda la rottura patologica è un discorso proprio di usura, a un certo punto le fibre del legamento ovviamente si indeboliscono e sono più soggette anche a rotture, anche a traumi più leggeri, e quindi può capitare che il vostro cane semplicemente a 10 anni faccia un movimento che magari non gli aveva mai dato nessun tipo di problemi e si rompe il crociato e quindi notate magari il cane che zoppica sull'arto posteriore. Fondamentalmente il cane tendenzialmente può rompersi il legamento crociato sia parzialmente che in maniera totale. Di solito quando se lo rompe completamente abbiamo il classico zoppia quarto grado, cioè arto completamente sollevato, se se lo rompe parzialmente potremmo avere un cane che zoppica e che molto spesso è caratteristica il fatto che appoggi in punta, quando si ferma appoggia in punta e questo è molto caratteristico del legamento crociato, della rottura del legamento crociato parziale. La diagnosi di solito si effettua una visita ortopedica proprio veterinario e poi ovviamente la classica prova del cassetto che è una prova che ci permette di vedere se si sposta fondamentalmente, se c'è diciamo lo spostamento craniale del femur sulla tibia e poi ovviamente la diagnosi anche radiografica perché molto spesso si vede proprio radiograficamente lo spostamento e a volte si trova anche un versamento all'interno della cavità articolare del ginocchio. Questo diciamo è la rottura del legamento crociato nel cane, in un altro video magari parleremo di che terapie di solito si impostano in questa patologia, però lo faremo in un altro video più specifico e ci vediamo al prossimo video.